e questa notturna del primo d'agosto ragazzi per il pesce più grosso ho preso un pochino se riesco a fare qualcosa di meglio e questa notturna del primo d'agosto è un pochino bella luca la connessione va e viene perché sono una buca faccio parlare condividi ciao per capire faccia non va non capisco come